Federico Casarini è il giocatore più utilizzato in casa Avellino, l'ex centrocampista di Bologna e Cagliari è disputato 26 incontri dall'inizio della stagione con 2116 minuti giocati e l'elemento che è anche il tempo più alto. Alle sue spalle Marcello Trotta e Diego Gambale con 24 gare disputate. Hanno superato le 20 presenze in campionato anche Lorenzo Maretti e Raffaele Russo con 23 gettoni, Fabio Tito e Agostino Rizzo con 21. Il migliore assistman dei Lupi è Raffaele Russo, l'ex Messina ad oggi ha collezionato ben 5 passaggi vincenti, oltre ad essere al pari di Marcello Trotta il capo cannoniere della squadra con 5 reti con il 16,7 di partecipazione ai gol della formazione bianco-verde. Il giocatore maggiormente subentrato è Diego Gambale, schierato a gara in corso 14 volte, alle sue spalle Marco Garetto con 10, l'elemento maggiormente sostituito è Marcello Trotta, cambiato in 16 occasioni. Aia Casarini, Trotta e Di Gaudio si sono divisi la fascia da capitano per Pasquale Pane, 5 clean sheet, 4 per Richard Marcone. L'Avellino su 30 gol realizzati ha avuto 14 marcatori diversi, solo 4 compagini hanno mandato in rete più giocatori, la capolista Catanzaro con 17, Foggia Giuliano con 16 e Pescara con 15. Messina e Monopoli al pari dei bianco-verdi con 14. In casa bianco-verde si segna molto di testa con 8 reti realizzate, mentre 7 sono state siglate di destro. L'Avellino è passato in vantaggio in 11 circostanze, con uno score finale di 9 vittorie, un pareggio ed una sconfitta con 28 punti ottenuti. In totale sono 30 i giocatori impiegati dall'inizio della stagione.